Vittoria ghiacciata, vittoria fortunata per il Ravenna che nella tormenta del Benelli si aggiudica al posticipo della 27esima giornata di Serie C, la sfida contro il Pordenone di Fabio Rossito. Giallorossi che hanno saputo impostare il match con grande intelligenza, concedendo poco o nulla ai ramarri e affondando il colpo al 26esimo quando Marzeglia serve Tommy Maestrello al limite dell'area di rigore, che con un sinistro alla Beppe Signori fulmina l'incolpevole perillo. Scacovato per il Pordenone che da lì in avanti non riuscirà più a scalare la montagna, dovendo affrontare il doppio ostacolo rappresentato dall'ermetica difesa bizantina e dalle condizioni del campo sempre più ai limiti dell'impraticabilità. Nero-verdi pericolosi ad inizio ripresa ma la battuta di Magnaghi è sventata da Venturi in calcio d'angolo. L'assedio dei Friulani è prolungato, anche se il Ravenna è pericoloso quando mette la testa fuori dalla propria metà campo. Come al 54esimo con Cenci murato da Parodi. L'occasione migliore per il Pordenone è il colpo di testa out di un Nocciolini liberissimo sotto misura. Il Ravenna protesta per un contatto più che sospetto tra Parodi e Broso appena dentro l'area di rigore, ma per l'arbitro Zingarelli è tutto regolare. L'ultimo brivido è firmato Bombaggi, piazzato di poco out. Vince il Ravenna che stacca così Teramo e Sant'Arcangelo portandosi a 26 punti.